le migliori sete dai mastri tessitori di randellar venite sentite che morbidezza eccoli qua ancora ciocobo vedi ciocobo si dice in giapponese quelli che l'hanno creati li chiamavano ciocobo non sono sospetti con il cappuccio in testa che si muovono così furtivamente no non lo sono mi interessa una pozione mia signora forse un unguento per lenire i dolori del viaggio mi spiace ti auguro il meglio ma che la madre vi guidi sedativi cure ricostituenti unguenti balsami catablasmi sedativi qua con lo spadone voglio dire cinque anni dopo cinque anni dopo che hai scoperto i portatori sono rinchiusi in un vecchio tribunale ai confini cittadini ah si è sotto il marchio si è fatto la cicatrice in faccia credo di non doverti dire chi c'è di guardia per assicurarsi che non fuggano le guardie private di coca è una trappola e sembrerebbe anche piuttosto evidente un'altra ma che cosa spera di ottenere libererò i prigionieri prima del tramonto tu non farai niente del genere i nostri compagni non hanno dato la loro vita per farti tagliare la gola in questi maledetti bassi fondi dovremmo lasciare i prigionieri a soffrire non ho detto questo intendevo dire che non devi andare per forza tu a liberarli sembra quasi che si stanno per bacià dannazione sei testardo proprio come il vecchio Sid si Gave è vivo Gave è vivo sei riuscito a salvare ora sei Sid e se dovesse accaderti qualcosa sarebbe la fine Autorgal si e Gave è col potere di Sid pure urco canna e che papagno non ha più i denti in bocca perdonatelo mio signore non intendevo offendervi taci tu nessun segno di Yugo secondo me disprezza le trappole dei suoi sgherri quanto noi allora sarà facile fateci del male mi scongiuro dovete stare zitti feccia marchiata andrà tutto bene un colpo li distrugge riequilibriamo lo scoglio ci sono obiezioni è lui il fuorilegge quello è Sid hai capito ora passa lui per Sid per mantenere vivo il l'ideale di Sid oh ciao game over va va a chiamare gli altri i portatori al sicuro ok faccio questo scontro e mi fermo da il potere del fulmine Clive ha rivendicato una parte dell'essenza dell'icon Ramu sintonizzarsi con Ramu non solo cambia l'aspetto elementale degli incantesimi di Clive ma permette anche sta regalando un abbonamento a livello 1 alla comunità di Pepe ma permette anche di accedere a diverse nuove abilità degli Econ come Tempesta che scatena una pioggia di fulmini sui nemici vicini respingendoli i dettagli delle sue abilità si trovano nella sezione abilità del menu principale il talento degli Econ di Ramu giustizia cieca può essere usato per lanciare una raffica di fulmini globulari contro un massimo di 9 bersagli selezionati il fulmine rimane temporaneamente attaccato a bersagli e poi si è attivato col pedolo un attimo solo ok allora vediamo un po' mi chiudi la porta Jaden per favore Jaden la porta per favore impossibile cambiare acquisire abilità ah in combattimento quindi lo posso fare dopo dai finito il fuorileggio è qui voglio la tua testa bugia oh la la oh la 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 tutto bene tu come stai? eh pure qua fa calduccio ok ok hanno finiti urcocan adesso basta fatelo giocare con il gattino fortunatamente tutto bene ma fa un caldo bestiale qui hanno un animaletto aspetta che ora non mi fa salvare io le dobbiamo forza finire il combattimento pagherai per ciò che hai fatto sit stasera si fa un po' più tardi dai sono creature veloci allora noi lo saremo di più allora noi lo saremo di più allora noi lo saremo di più Karuda! Spirate, venti! Spirate! 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 Ah, mamma mia, che combo! Distrutto! Oh! Oh! E ce l'abbiamo fatta Un micetto così in casa Si potrebbe tenere Era un po' Sì, diciamo, era un po' Irritato E questi si sono spaventati Era un po' irritato, sì Direi di sì Ho fatto un massacro Oh, mi fate salvare la partita Ah, è periodo, bravo C'è ragione, game over Avranno disturbato Nel momento del corteggiamento Aspettavo un grazie Tutti i nostri amici sono morti per colpa tua Hai capito o no? Ci hanno usati come esche Esche per stanarvi dal vostro dannato buco Tutto perché non potevate lasciare le cose come stavano Che cosa sei venuto a fare qui? Non abbiamo chiesto di essere salvati Volevi essere ringraziato Non ci perdoneranno Siamo tutti marchiati Ah Per cinque anni abbiamo lottato per dare una vita migliore a quelli come noi Per poter essere trattati come, come dei pari Non è quello che volete Vogliamo soltanto che ci lasciate in pace Tutte le volte che vi mostrate Siamo noi a soffrire Va bene Mi dispiace Eh, hai capito? Lasciateci in pace È la nostra casa È qui che vogliamo restare Eh Sid l'aveva detto che sarebbe stato difficile Lo capiranno Che cuore d'oro che hai Ora andiamo Oh bene Quindi dobbiamo andare Oh, non mi fa ancora salvare Dobbiamo andare qua Ciò che vede un altro filmato Dove vede un altro filmato sicuro Sì Siamoci comodi La notte di cinque anni fa Distruggemmo il loro simbolo di speranza Ma non diremo mai il motivo Per questo ci credono la causa delle sofferenze Agiamo per dare loro un futuro Ma ciò che vedono sono le condizioni attuali Wow Buon lavoro Game over Buon lavoro Non ti invidio Ma buon lavoro Continuo a chiedermi Se abbiamo fatto la scelta giusta Grande game over Grazie ancora per l'abbonamento Che hai regalato alla community Grazie Creare un mondo Dove potessimo Scegliere per la nostra vita Non gli interessava Che le nostre scelte fossero giuste Oppure no Ma che fossero nostre Mi manca Un mondo In cui vivere e morire da pari È questo che voleva Che vogliamo tutti Ecco il perché del suo nome Ed è per questo motivo Che portiamo avanti le sue idee E Non permetterò in alcun modo Che qualcuno ci ostacoli Ci siamo piccionci Grazie game over Un abbraccio Oh sembra un'astronave però Eh queste Eh queste devono essere Le vecchie Le vecchie città volanti Casa dolce casa Otto ha chiesto notizie di te È meglio se vai da lui Ah mai un momento di noia Allora Andiamo di qua Che mi cercavano Eh ciao Arturo Come va Andiamo 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 a laburar Parabunzi punzi 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 Bello però Queste aree Scensori artigianali Comunque funzionano bene Avrei un po' paura A prenderle però Ah no Fermo là Fermo Fermo Dovamo vedere i punti abilità Che abbiamo sbloccato Ok Ora Ora Dobbiamo iniziare un po' A potenziare tutto Quind Otto Vediamo cosa da dire Ma io sentiamo Ma io del mio funziona Ah Se serve sarò Nella sala della mappa Oh Non riesco proprio a inquadrarla Non ci sono posti migliori Dello scafo di un'aeronave In pezzi Per stare incollati A un libro Eppure è qui Che ha scelto di stare Eh Andiamo a vedere Non ha certo le sue ragioni Mi piace il termine Aeronave Perché non le abbiamo Chiamate aeroplano Aeronave sarebbe stato più bello Vabbè Oh Vivian Spero Di non disturbare Oh Tornato dalla missione Inizio a pensare Che la tua abitudine A sopravvivere Non sia dovuta Alla mera fortuna Ma Non l'avevamo conosciuta prima Vivian l'immortale Per tua informazione Solo quattro volte Hanno attentato Alla mia vita E nessuna di queste È degna di nota Dunque A che cosa devo l'onore Devo credere che tu sia qui Per una delle mie lezioni È così improbabile Che lezioni dà Molto bene allora Cominciamo dalla situazione Del regno Al momento Sembrerebbe trovarsi Chi l'avrebbe mai detto Alla mercè di eserciti E fuori legge Beh Principalmente eserciti Ma non per mancanza Di tentativi Giusto Clive Ma la vera domanda È Come siamo finiti qui Come siamo finiti qui Ah Parte la storia Sta raccontando Non è da molto Che la piaga Ha cominciato A strappare via Sempre più terre Proprio per questo motivo Continuano a muovere Guerra ai rivali Oltre lo stretto Nella speranza Di reclamare Qualche pascolo Ma Walud Preferirebbe vendere La spada di Odino Che c'è De recineria Così L'impero Paga a caro prezzo Ogni singolo Filo d'erba Sotto gli stivali Sambrichiani Non bisogna stupirsi Che Silvestre Stia puntando Al dominio cristallino Un bersaglio più facile E benedetto Da altrettanto etere Ormai cinque anni fa Mentre voi eravate occupati A distruggere Testa di Drago L'impero Ha fatto la sua mossa Soggiogando Il territorio neutrale A lui vicino Una nazione Che legittimamente Vantava di essere Il centro del mondo Di certo Il luogo ideale Per stanziare Un esercito E da lì Il sacro impero Può raggiungere Facilmente i gemelli Il patto di non aggressione Era l'unica cosa Che li teneva a bada Ma se l'hanno violato Senza alcuna provocazione È solo questione di tempo Prima che ci sia Una reazione degli altri Il sacro impero La repubblica di Dalmechia Il regno di Walud E naturalmente I nostri amici di Aeron Mi domando Chi sarà a restare Quando l'ultima goccia di sangue Sarà versata Hai capito Ha riassunto tutto Non temi per la tua patria Sul dominio si radunano sempre le nubi più oscure Eppure nonostante tutto Ha resistito ogni volta E passata questa tempesta Sono sicura che lo troveremo ancora lì Ora Come forma di pagamento Per la lezione di oggi Porta a termine Una semplice commissione E ci considereremo pari Pari Capito Riporta per me questo testo Al vecchio biblio Puoi dirgli che era Accettabile Una missione con qualche combattimento Così proviamo meglio i nuovi poteri Vediamo un po' come la rosa Saggio Arpocrates Ecco un nome che non sentivo da parecchio tempo Da così tanto che avevo quasi dimenticato fosse il mio Bentornato Clive Ottimo 009 Come sempre Credo che questo sia tuo È stata Vivian a mandarmi Di già La nostra studiosa divora libri Più in fretta di quanto Ted faccia con le crostate Vorrei poter dire lo stesso Ma purtroppo non sono più nelle condizioni per simili piacere 009 Non mi puoi chiedere ogni volta che gioco è quando è lo stesso Che fai mi prendi in giro Oltretutto già sai dove è scritto il titolo Ma senza l'accesso alle grandi biblioteche Diori Flammo o del Dominio Purtroppo temo di aver trovato ben poche informazioni Mi spiace No Non scusarti Avvertirò i miei collaboratori Forse potremo fornirti altri libri Temo che non servano altri libri Ma solo quelli giusti Forse cerchiamo nel posto sbagliato Ci sono ancora biblioteche a nord Vedrò che posso fare Molto gentile In questo mondo in pochi Asseconderebbero i capricci di un vecchio storico stanco Stanco ma sempre a rubacchiare i semi di cupo Eh Ne ho sempre le tasche piene Hai capito il vecchietto Le rubacchi ha i muguri Bravi I muguri non esistono Lo sanno tutti Hai capito Non l'avevamo incontrato al vecchio rifugio i muguri Che Clive riusciva anche a parlargli Eh quella specie di Tamagogi Sì Yole Comunque A livello tecnologico Mi sa che hanno fatto Sono tornati indietro di qualche centinaio di anni Perché le rovine di questi aeromobili Aeronavi scusami Delle aeronavi Sono antiche Che cosa Che abbiamo La scrivania Rapporti, lettere e altre importanti missive indirizzate a Clive Vengono consegnate sulla scrivania in camera sua Arrivano sempre nuovi messaggi Quindi Ricordati di controllare la scrivania quando torni al rifugio Vabbè Allora Vediamo un pochettino Le mosse della Repubblica L'esercito repubblicano marcia contro l'impero a sponde gemelle Gli uomini della roccia sono stati chiamati al fronte Scommetto che qualcosa di grosso bolle in pentola Ti racconterò tutto al mio ritorno Gav Vediamo un po' Cosa ti ha detto Gav? L'esercito repubblicano è in marcia Ha lasciato Yugo Kupka a capo di Randellà Con lui e i suoi uomini occupati a difendere la capitale Elgato Facecam Renat Buone notizie direi Più che buone È la nostra occasione Quella che aspettavamo Pure su Twitch dicono che è fantastico il combattimento I combattimenti in questo gioco Hanno una bella grafica Guarda quanta strada abbiamo fatto Tutto quello che abbiamo Gli amici Il rifugio Non sono motivo di gioia Cinque anni Cinque lunghi anni Se solo potessi controllare il mio potere Avremmo ottenuto molto di più In cinque anni ancora non lo controlla È come se qualcosa mi trattenesse Evocare un Eikon richiede un prezzo molto alto da pagare E il tuo corpo questo lo sa fin troppo bene Sta solamente cercando di salvarti da te stesso Con cinque anni ancora non ho imparato a padroneggiare l'evocazione dell'Eikon Questa nostra missione mi ha portato a dubitare di tutto quello in cui credevo Ma c'è una cosa che è diventata molto chiara I cristalli prendono più di quanto danno In cambio di un conforto momentaneo Sopportiamo una vita piena di dolore Guerra dopo guerra Perdite su perdite No 009 stavo scherzando Non ti preoccupare Ci mancherebbe Come scherzi tu scherzo pure io Non ti bannerei mica per una cretinata del genere Noi cerchiamo di cambiare le cose Per me Non è un fardello Lo so Ma Non dimenticarlo Siamo qui perché Joshua ci ha donato una seconda occasione Secondo me ha paura di distruggere e uccidere tutti Capito? Per questo si trattina ancora Non utilizza ancora bene i poteri del suo Eikon Oh Leon Ciao Bentornato Lui era lì Non era un'illusione L'ho sentito chiamare Ultima Il nostro nemico Vai tranquillo Leon Sicuramente ha avuto ben di meglio da fare Quella cosa Quella cosa Secondo te tornerà mai Di sicuro E noi dobbiamo essere pronti Dobbiamo imparare a padronizzare il nostro Eikon Altrimenti la prossima volta la vedo tragica Oh no vai tranquillo Leon Non ci mancherebbe E' estate Sarei chiusi in casa Vai a vedere The Flash Leon? Ah Insidious Fammi sapere poi com'è La prossima volta che viene in live Mi incuriosisce E così il nord è perso Sapevo che la piaga si diffonde velocemente Ma questo Questo è molto peggio Di quanto potessimo solo immaginare E' questione di tempo I gemelli verranno inghiottiti Il mondo sta marciando verso la sua fine Mentre noi brancoliamo alla cieca Dimmi fratello Esatto Leon Domenica Ci vediamo domenica Domani la prendo di riposo Cioè di riposo dalla live Ma devo praticamente editare I video per tutta la settimana Quindi sempre qualcosa da fare Però non vengo in live A meno Mi distribuisco un po' le cose da fare Un momento se Ah mi dispiace Io non volevo Interrompervi Niente affatto Stavamo discutendo una strategia Parla pure Otto Marta della locanda E' sparita Comunque Mi trovate immensa quando avrete finito Molto bene Brava Iole Grazie mille E' sparita Maglio Sar tollo Sì Adora Come 了 E' sparita Grazie a tutti